Roma, primo marzo 2017, Palazzo del Coni. Conferenza stampa per la presentazione della nonna edizione di Moto Days, il salone della moto e dello scooter in Fiera di Roma dal 9 al 12 marzo. Ringraziamo adesso il pallone di casa di qui invece, quindi il presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Coppioli che si è insediato tre mesi fa soltanto, quindi le chiediamo anche come vede Moto Days, il suo primo Moto Days da presidente. Mi fa molto piacere che sia appunto un motociclista, un appassionato e per questo noi siamo felici di ospitarvi qui e di avere questo onore per noi di ospitare questa conferenza stampa. Anche noi saremo comunque presenti in Fiera con alcune attività a parte le gare e le manifestazioni che ci sono nei padiglioni esterni anche per quanto riguarda la sicurezza stradale abbiamo un simulatore e avremo nell'area Bikers appunto una presenza istituzionale della Federazione Motociclistica Italiana. Sicuramente la Fiera è un contenitore molto ampio per quanto riguarda l'attività motociclistica, noi siamo ben felici che ci sia comunque questa attenzione nei confronti del motociclismo. in generale, l'attività che leggo qua sono talmente tante che poi appunto saranno sicuramente sviluppate dagli altri relatori e sinceramente credo che la Fiera di Roma possa crescere ancora, sicuramente ci sono le possibilità per farla crescere ancora, noi come Federazione Motociclistica Italiana saremo vicini e siamo sicuri assolutamente che non ci saranno che crescita e sicuramente i numeri potranno superare tutti quelli che ci sono stati negli anni precedenti. e sicuramente i numeri potranno superare tutti quelli che ci sono stati negli anni precedenti. e sicuramente i numeri potranno superare tutti che ci sono stati negli anni precedenti. e sicuramente i numeri potranno superare tutti che ci sono stati negli anni precedenti. e sicuramente i numeri potranno superare tutti i numeri potranno superare tutti i numeri potranno superare tutti che ci sono stati negli anni precedenti.